Oggi salirò su uno dei tram più antichi e prestigiosi di Milano, il tram 1. Chissà quali sorprese ci attendono dentro a questo storico pezzo di ferro. Prima di tutto apprezzate che ero in tinta con il palo della fermata. Qualche centimetri in meno e potevamo sembrare gemelli. Ma comunque partiamo con una cosa che non mi sarei mai aspettato. Queste luci soffuse farebbero invidia anche al miglior ristorante chic della città. Non chiedetemi perché siano qui dentro. Passiamo poi al panorama incredi... Scusate ho sbagliato clip. Ecco qua, al panorama incredibile di cui tutti parlano. E a parte qualche frenata brusca e qualche oggetto difettoso devo dire che è andato tutto bene tranne che ho appoggiato le mani dove non dovevo e che sono uscito dalla porta con il divieto. Polizia, giuro che è stato un incidente.